amici cari amici di Gennaro Master alla pizza buona giornata a tutti ecco qua il tradizionale brindisi giornaliera alla vostra e alla mia salute oggi come vedete mi preparo un po di zucca con la la pasta mista come si dice a Napoli bello con peperoncino e madre credo nell'attesa perché anche mi sono laghi adesso sta facendo sto facendo un po di antipasto di formaggio 30 mettiamo la zucca ecco qua l'antenna come vedete sono sempre contento di fare di girare questi video perché se stanno persone che veramente mi vogliono bene mi scrivono Gennaro com'è divertente? Gennaro sei unico? Gennaro sei bravo? Amici cari io sono pure normale un cittadino di tutti i giorni senza pretesa e senza niente una persona semplice semplicissima più mi sento in altra maniera mi sento mi sento in paradiso quando le cacchile capuzzi sotto il naso ma te lo avete detto ma ve lo sti fai campando già in questo periodo fa stifo proprio a campare ma quando voi incontrate queste persone così come dire scostanti questi persone che chissà chi cazzo si crede ne essere allora la cittadina che vi potesse dare un'ora allora è meglio che veni andate facendo anche la lino nella vostra strada ah la planica, un poverosino, 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 ecco qua, ecco qua, come ho detto ieri qualsiasi pasto io ci metto sempre un poverosino, io vi lascio con l'augurio di una buonissima serena giornata, eppure si sta giuendo e fa un po' freddino, io sono caldo in verità e vi auguro ogni bene e lo desidero per me, un desidero per tutti, un abbraccio, lo vengono sempre bene. Sempre alla vostra e alla mia salute.